La Tokenomics. Quante volte hai sentito parlare di questa mirabolante Tokenomics che ti fanno sempre intuire dovrebbe far schizzare il prezzo di una criptovaluta semplicemente perché la supply, quindi l'ammontare di quella criptovaluta in circolazione, è diminuita? La Tokenomics rappresenta, devo dire, una importante innovazione finanziaria nel mondo delle criptovalute rispetto al mondo della finanza tradizionale perché dà la possibilità di controllare l'afflusso di moneta seguendo delle regole matematiche. Regole matematiche che per alcune criptovalute sono state decise una volta per tutte all'inizio e mai più cambiate, per altre invece vengono riaggiustate periodicamente, direi quasi per tutte forse tranne per Bitcoin e i suoi diretti derivati. Ogni volta che viene effettuato questo aggiustamento o quando viene lanciata una nuova criptovaluta ti viene di solito presentata questa Tokenomics come il non plus ultra, non viene mai esplicitamente detto ma viene sempre lasciato intendere che questo dovrebbe sostenere il valore, quindi l'idea è che una riduzione del quantitativo circolante della moneta dovrebbe aumentare il prezzo. Questo è verissimo per un bene il cui prezzo non dipende da altri 7000 fattori. Direi per le cripto sappiamo benissimo tutti che il prezzo dipende al 90% dalla FOMO e al 10% dei tweet di Elon Musk. Quindi per le criptovalute mi sono sempre chiesto ma serve veramente a qualcosa andare a modificare la supply? e utilizzerò questo termine supply in tutto il video indicando l'ammontare totale di quella criptovaluta emessa finora, quindi comprendendo anche eventuali ammontari bloccati. Andare a modificare dello 0,1% la supply e sostenere che questo basta per modificare il prezzo. Il fatto è che nel mondo finanziario tradizionale questo funziona, modificando anche solo dell'1 per 1000 la supply dell'euro, quindi andando ad aumentare si causa inflazione, andando a diminuire si drena inflazione, ma nel mondo della finanza tradizionale le cose funzionano in modo nettamente diverso. Le valute non oscillano come dei pazzi una rispetto all'altra e soprattutto siamo sempre invasi da notizie che ci modificano il comportamento. Nel mondo delle criptovalute diciamolo chiaramente se io vi chiedessi adesso quanti Ethereum ci sono in circolazione e come viene modificata la supply di Ethereum, alla prima domanda sono sicuro che nessuno sa rispondere, alla seconda pochi saprebbero rispondermi. Spero che sappiate almeno la base base, i famosi 21 milioni di bitcoin e 6.25 nuovi bitcoin ogni 10 minuti. In questo video andiamo a fare delle analisi, e devo dire questa volta usando gli strumenti statistici anche base base, però abbastanza pesanti per chi non ha mai visto un corso di statistica, delle analisi sull'impatto che ha la supply e le modifiche della supply sul prezzo, per vedere se questa narrativa è vera oppure no. Purtroppo essendoci 70.000 criptovalute, o per fortuna, perché in questo modo ognuno può scegliere, l'analisi va fatta per ogni criptovaluta distinta, non possiamo fare di tutte le criptovalute un calderone, anche perché si comportano in certi momenti in maniera nettamente diversa quando si verifica un evento specifico di quella criptovaluta. Le farò tutte però, poi ognuno si sceglie la propria preferita e si va a guardare cosa succede. Iniziamo da una criptovaluta, non scelta a caso, Bitcoin. Perché? Perché Bitcoin, come si dice nel mondo cripto, Bitcoin è il re. Tutte le altre criptovalute gli vanno dietro. Infatti, noi analizzeremo prima Bitcoin e poi analizzeremo le altre criptovalute con il prezzo però espresso in Bitcoin. Perché se io le analizzassi col prezzo espresso in dollari, vedrete, risulterebbe lo stesso identico grafico di Bitcoin. Le altre criptovalute hanno una fortissima dipendenza dal prezzo di Bitcoin che ne cancella ogni effetto di supply. Diciamo quindi che il prezzo delle altcoin dipende a occhio e croce al 90% dal prezzo di Bitcoin a meno di eventi eccezionali e poi solo al 10% da altri fattori. Quindi prima analizziamo Bitcoin, poi le altre criptovalute col prezzo però espresso in Bitcoin, come si usa abitualmente in questo mondo. Foglie Excel, ecco qui, questi sono i dati del prezzo di Bitcoin. La data iniziamo dal 28 dicembre 2013, quando Bitcoin ha iniziato ad avere un prezzo più stabile. No, non è vero, inizio da questa data perché ho ottenuto i dati da questa data. Ok, utilizzerò il prezzo close, quindi il prezzo di chiusura. Per un motivo che vedrete dopo mi sono calcolato anche il logaritmo di questo prezzo. Già penso che con la parola logaritmo ho perso il 10% dell'audience. La variazione del prezzo di chiusura, quindi ad esempio in questo caso è 7,45 meno 7,27 diviso 7,27. Ok, il volume di scambi, teremo in considerazione anche questo. Questo volume di scambi in token è, non in dollari. La supply, quanti Bitcoin c'erano in circolazione, nel 2013 eravamo a circa la metà. I Bitcoin totali sono 21 milioni, c'erano 12 milioni in circolazione. Più che in circolazione è 12 milioni in giro. Questa è la data in formato numerico, altro non è che questa data ma in formato numerico, che usa Excel. Mi serve perché poi la data sarà un fattore determinante. Volume su supply, quindi volume diviso supply, quanti Bitcoin dei totali esistenti sono stati scambiati quel giorno? Vedete, normalmente Bitcoin scambia tutti, tutti, cioè è sempre superiore al 100%, questo è un aspetto molto interessante, quindi vuol dire che perlomeno in questo periodo, vediamo dopo, giusto per mia curiosità, or dopo addirittura di più, c'è così tanto trading su Bitcoin, chiaramente non sono tutti i 21 milioni che vengono scambiati, quelli di Satoshi Nakamoto restano sempre lì, ma magari ci sono i miei, che vengono scambiati 100 volte perché io faccio 100 operazioni di trade durante il giorno. Questa è la variazione della supply, questo meno questo diviso questo, beh è più o meno sempre il 3 per 10 mila all'inizio, poi cala perché, e chi non sa questa regola, non capisco cosa ci faccia su un video che parla di criptovalute, Bitcoin emette 50 nuovi Bitcoin ogni 10 minuti, quindi 50 per 6 per 24 nuovi Bitcoin ogni giorno, e questa è la differenza tra un giorno all'altro, però questi 50 ogni 4 anni vengono dimezzati, adesso siamo a 6,25, quindi adesso emette 6,25 nuovi Bitcoin ogni 10 minuti. Attenzione, è ogni 10 minuti circa, perché dipende dal tempo di mining, vedremo che da un giorno all'altro fluttua e anche di tanto, perché capitano dei giorni in cui i minatori sono molto più veloci e dei giorni in cui sono più lenti. Ok, volume in dollari, quindi moltiplicate il volume per il prezzo e supply in dollari, queste due non le userò mai, so che molti di voi mi ha scritto una volta uno in un commento, sono entusiasti di queste due, che chiaramente se volete confrontare Bitcoin con un altro capitolo valuta, questa dovete vedere, perché questa non vi dice niente, dipende dal prezzo di Bitcoin chiaramente, il problema è che siccome sto andando a vedere se il prezzo dipende dalla supply, se io uso la supply moltiplicata per il prezzo, è ovvio che il prezzo dipenda dalla supply moltiplicata per il prezzo, è proprio per una formula matematica, questo è il motivo per cui queste due alla fine io non le posso usare, anche se le ho calcolate. Benissimo, questa è tutta la baracca. Prima cosa, andiamo a vedere le correlazioni, già qui altro 10% di utenti che se ne va, la correlazione di Pearson, tanto per togliermi un altro 10% di utenti, è una misura statistica, proprio base base, cioè se avete fatto un corso di statistica e non vi è stata insegnata questa, scrivete una mail al prof tra la supply e la variazione della supply e il prezzo, il logaritmo del prezzo e la variazione del prezzo. Ok, cosa misura, cosa dice questa misura? Questa misura va da meno 1 a 1, se è 0 vuol dire che non c'è nessuna relazione per i precisini lineari tra le due variabili, se è 1 vuol dire che le due variabili vanno, come si dice in Veneto, busetto e botton, che sono questa cosa qui, cioè proprio appiccicati assieme, sale uno, sale l'altro, esattamente la proporzione, scende uno, scende l'altro, sono come si studiava le medie direttamente proporzionali, se è meno 1 vuol dire che sono come si studiava le medie inversamente proporzionali, se non le avete studiate le medie scrivete una mail al professore delle medie ovviamente, e chiaramente valori di 1, meno 1 non li vedete mai, vedete valori che variano da meno 1 a 1, ad esempio qui prezzo con supply 0,65, molto alto, quindi vuol dire che la supply al 65%, scusate, il prezzo al 65% dipende dalla supply, quindi aumenta la supply, il prezzo tende a aumentare, e faccio notare cosa ho detto, pensate bene cosa ho detto, non dal punto di vista matematico, ma dal punto di vista logico, aumenta la supply, il prezzo tende ad aumentare, è esattamente l'opposto di quello che si verifica nella finanza tradizionale, però se aumenta il numero di euro circolanti, il valore dell'aero scende, quindi questa relazione che abbiamo trovato è proprio anti tokenomics, ci smonterebbe già, potrei formare il video qui, ci smonta la tokenomics, aumenta la supply di bitcoin, aumenta anche il suo prezzo, come è possibile, aumenta la supply, aumenta il logaritmo del prezzo addirittura di 0,89, è quasi 1, aumenta la supply, la variazione di prezzo non viene a profegare di assolutamente niente, praticamente quasi 0, molto più interessante invece è la variazione della supply, infatti questo mi spinge a osservare che, perlomeno per bitcoin, non importa quanti bitcoin c'è in circolazione, ma come variano da giorno a giorno, per questi risultati che abbiamo ottenuto finora, poi faremo delle analisi un po' più approfondite, perché c'è un altro fattore di cui non dobbiamo dimenticarci, che è il tempo. Allora, la variazione da supply comunque, il prezzo è negativamente correlato con la variazione da supply, vuol dire che, attenzione, non aumenta la supply, aumenta l'aumento della supply, so che il concetto qui si passa a derivate seconde e la cosa diventa difficile, aumenta l'aumento della supply, e qui ho perso tutti quelli che hanno dei problemi a capire la relazione tra il FOI e l'inflazione sui BTP Italia. Quindi, aumenta l'aumento della supply, il prezzo cala. Quindi, se invece che esserci 6 bitcoin ogni 10 minuti, ce ne sono 8 bitcoin ogni 10 minuti, il prezzo tende a calare. Parecchio anche. E il logaritmo del prezzo è ancora di più. Qui, la variazione di prezzo, al solito, non gliene frega assolutamente meno di niente, quindi questa è proprio irrilevante. Quindi abbiamo detto che il prezzo ha questa relazione strampalata, perché se la supply aumenta, lui aumenta, che non dovrebbe farlo, dovrebbe fare esattamente l'opposto. Se la supply, se la variazione della supply aumenta, lui diminuisce. Qui puzza. Non mi aspetterei una cosa del genere. Perché puzza? Dov'è l'errore? Beh, intanto vediamo il grafico. Questo è il grafico. Ora, io spero che tutti voi riconosciate la riga arancione. E chi non la riconosce e investe in criptovalute, potrebbe essere il momento di rivedere la propria strategia. La riga arancione rappresenta l'aumento dei bitcoin disponibili. Qui erano 25 bitcoin ogni 10 minuti. Qui, vedete, cambia pendenza. È 12,5 bitcoin in 10 minuti. E qui è 6,25. In questo punto, che era nel 2020, in piena pandemia, io ho fatto una live per aspettare proprio il primo blocco, che aveva 6,25 invece di 12,5. E la live ha avuto zero partecipanti. Ho fatto una live da solo. Ricorda, era sera. E ho anche beccato il momento giusto. Meglio no, mi sono distratto un attimo e in quel momento sono passati due blocchi nuovi. Ok. Comunque, a parte questo folklore, questa è la supply di bitcoin. È proprio nota. La curva è nota. E questo è il prezzo di bitcoin. Anche questo è un grafico che chi investe in criptovalute ha ben presente. La bolla del 2017. Qua nascosta, qua sotto, c'è la bolla del 2015 che è così schiacciata che non si vede. E questo grafico dovrebbe far stare zitti quelli che dicono eh, le criptovalute si perde sempre. Si perde sempre una cep. Si perde sempre, certo, se compri qui e vendi qui. Ma basta comprare in qualunque momento qui. Le criptovalute, ricordo, sono un investimento a lungo termine oltre che estremamente rischioso perché nulla impedisce a bitcoin qui di precipitare a zero. Nulla. Secondo voi c'è una relazione tra queste due cose? Ma apparentemente sì ed è esattamente quella che c'è dentro la correlazione di Pearson. Più cresce questa e più cresce questa. Ok, non in maniera ordinata perché qui cresce ma poi cala nonostante questa continua a crescere qui cresce e cala nonostante questa continua a crescere anche se meno. Quindi la relazione c'è non in maniera molto disordinata. infatti io mi stupisco che la correlazione di Pearson mi dia ben 0,65. La relazione c'è. Passiamo ad analizzare la variazione della supply. Quindi invece di avere come arancione la supply o la variazione della supply eccola qui. Questa è la variazione della supply. Oscilla perché? Perché quei dieci minuti sono molto variabili e può capitare in un giorno che ci siano più blocchi minati o meno blocchi minati. Vedete, qui addirittura oscilla tantissimo. Attenzione, quando la vedete tutta arancione non vuol dire che siamo qui siamo in cima vuol dire che un giorno è qui in cima il giorno dopo è qua sotto perché altrimenti se fosse sempre in cima ci sarebbe una riga in cima. Il fatto che la riga che la cosa sia piena vuol dire che la riga va su e giù ogni giorno e che è normale perché vuol dire che un giorno sono stati minati parecchi bitcoin e il giorno dopo magari meno o viceversa. Qui ci sono delle spike irregolari che potrebbero essere dati errati ma non penso perché qui non vedo dati errati oppure proprio giorni strani in cui sono stati minati parecchi bitcoin sono stati trovati blocchi in sequenza molto breve spike in su e spike in giù comunque identificate chiaramente i momenti dell'halving qui e qui dove io ripeto ho fatto una live zero partecipanti vergogna e voi chissà in cosa investivate in luna probabilmente anch'io ok benissimo c'è una relazione tra queste due cose vediamo qui è dritta ma la prezza di bitcoin va su e giù qui è calato è calato e il prezzo di bitcoin è salito interessante qui è non posso dire è salito un giorno sale un giorno no il prezzo di bitcoin è sceso e quindi per questo la correlazione di Pearson giustamente mi identifica guarda meno 0,52 questo è il motivo per cui mi identifico a meno 0,52 quindi dal grafico e da qui potrebbe sembrare che ci sia una relazione c'è però un ospite sgradito il tempo in tutti e due i grafici è evidentissimo che più avanza il tempo più il prezzo di bitcoin sale cioè evidentissimo non sale chiaramente in maniera lineare sale scende sale scende ma in media sale perché qui nonostante siamo quasi a un bottom siamo comunque a un prezzo di bitcoin più alto di qui di tutta questa fascia qui e di tutta questa fascia qui quindi più avanza il tempo più il prezzo di bitcoin sale quindi se noi riuscissimo inserire anche in questa relazione la variabile tempo potremmo vedere quanto dipende dal tempo e quanto dipende dalla supply si può fare? certo che si può fare con i modelli di regressione e qui ho perso 50% degli ascoltatori tranquilli i modelli di regressione li fa excel mica dobbiamo farli noi una volta devo dire nella mia vita io ne avrò fatto una mano ci ho messo ed era semplice semplice ok cos'è un modello di regressione? è difficile da spiegare a persone che non avvezano la matematica senza avere una lavagna è una cosa che cattura la relazione non tra una variabile e un'altra ma tra una variabile e tante altre quindi noi cattureremo l'influenza che ha che hanno sul prezzo la supply il tempo e per questo ho date n potevo usare anche date sto parlando in inglese ma date non è nel formato giusto date n mi è molto più comodo quindi il numero di giorni che avanzano e il volume su supply quindi quanti sono stati scambiati perché voglio vedere se magari il fatto che qui sia stati scambiati pochissimi pochissimi insomma 170% e qui quant'è? 115.000% possa influenzare il prezzo quindi i maggiori scambi può influenzare il prezzo volendo quindi io andrò a guardare se la supply la dà il tempo che avanza e il volume su supply influenzano il prezzo quindi questa come è influenzata da queste tre ok? non è proprio non sarà proprio così chiaro non c'era un numero solo chiaramente come la correlazione della correlazione ma pazienterete e ve la subirete lo stesso come si fa con Excel adesso io vi faccio vedere come si fa potete saltare direttamente tipo in due minuti come si fa a farla con Excel le ho già fatte chiaramente si va su data si va su data qui data non so come sia in italiano data analysis che in italiano è strumenti di analisi stop sono sicuro che 90% di voi non ha questo data analysis su Excel perché non ce l'ha? perché non capisco perché la Microsoft non lo metta per default per farla apparire dovete andare su file options che sarà opzioni in italiano ok add-ins che in italiano potrebbe chiamarsi add-ins o strumenti aggiuntivi andare qua sotto manage Excel add-ins go e selezionare quello che in inglese si chiama analysis tool pack in italiano strumenti di analisi se per caso avete Excel in tedesco analyse funzionen lo selezionate poi metto ok ogni tanto dovete riavviare Excel ogni tanto no è uguale di solito appare subito ed ecco che appare ora vi direte ma la Microsoft poteva gentilmente metterlo direttamente no questo io per dieci anni due volte all'anno dovevo spiegarlo agli studenti c'era sempre il pirla che arrivava saluto il pirla che arrivava l'esame senza questo attivato mi fa io non ce l'ha fino a che a un certo punto mi sono stufato l'ho messo nel programma d'esame programma d'esame sapere installare data analysis così il pirla veniva bocciato ok quindi vado su data analysis c'è tutta una serie di strumenti statistici che voi è bello leggere i nomi perché sono f test to sample for variances Fourier analysis ok regression in italiano sarà regressione ok qui dovete mettere i dati che la variabile dipendente quindi quella che varie in questo caso il prezzo quindi io prendo da close devo andare giù 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 da i1 a e300012 torno su perché non riesco a vedere nulla ok prendete anche l'etichetta iniziale qui invece le variabili indipendenti quelle che influenzano quindi nel nostro caso quali sono nel momento sono j1 l312 quindi ah no non voglio j1 voglio i1 devono essere tutte tutte vicine queste colonne queste colonne se sono una qua una là non funziona non vado fino a l ma vado fino a k quindi da i1 a k312 quindi supply date n e volume su supply ok selezionate labels perché vuol dire che avete le etichette nella prima riga ok non selezionate niente di particolare qui per piacere new worksheet ok e viene adesso ve lo faccio vedere poi l'ho fatto un po' più bello viene statico e non è dinamico questo di solito io me lo allargo poi me lo coloro adesso ve l'ho fatto un po' più bellino adesso lo butto via perché passiamo direttamente a quelli più bellini vi ho spiegato come si fa affinché tutti i precisini che mi dicono eh ma non hai considerato questo e io posso rispondere consideralo tu il foglio è disponibile in descrizione fatelo da solo e si ne contendo quindi la relazione che vogliamo studiare è questa come il prezzo dipenda da una costante che non ci interesserà è messa per motivi tecnici la supply per un coefficiente b chiaramente è tanto più grande questo coefficiente tanto più l'influenza della supply sarà sul prezzo la data la data intendo il giorno proprio per un coefficiente c e volume su supply per un coefficiente d quindi è il volume ma ho voluto dividirlo per la supply perché quello ha più senso il modello ci fornisce uno scatafascio di allargo uno scatafascio di numeri gli unici rilevanti ve li ho fatti in rosso gli altri si sono rilevanti che gli altri ma ok questo è il cosetto r quadro è una misura famosissima penso sia la misura più famosa in statistica vi dice quanto buono è il modello quindi il 73% vuol dire che il modello va da 0 a 100% vuol dire che il modello è molto buono vuol dire che questo modello riesce a catturare il 73% della variazione di prezzo quindi vi dice sostanzialmente che la variazione del prezzo di bitcoin si può determinare per il 73% a livello statistico e non a livello matematico con supply data e volume su supply è un modello ottimo io quando vedo cose del genere mi stupisco perché in economia di solito grasso che cola si viene in 10% in fisica devono venire 99.9% ma in economia no ok andiamo a vedere chi sono questi A, B, C, D eccoli qua gli A, B, C, D l'intero A è totalmente rilevante sta per una sola questione tecnica ignoratela B, C, D prima di andare a vedere però B, C, D dovete andare a vedere questo P veglio P veglio deve essere meno del 5% se è più del 5% vuol dire che quel coefficiente non è attendibile in questo caso è molto meno del 5% questo sarebbe un risultato che si può pubblicare su rivista scientifica se non fosse per un piccolo problema che dirò dopo con grande orgoglio ok quindi è estremamente significativo però non è non basta che sia significativo perché se una variazione della supply mi aumenta il prezzo di un centesimo di dollaro non me ne farà stavente niente bisogna proprio andare a vedere anche di quanto me l'aumenta e quindi bisogna in un certo senso interpretare questi coefficienti allora cos'è questo meno 0.012 vuol dire che se la supply aumenta di un bitcoin e il prezzo diminuisce di un centesimo di dollaro e vi direte beh è irrilevante no che non è irrilevante perché attenzione perché la supply non aumenta di solo un bitcoin la supply aumenta ecco qui la formula ogni giorno adesso di 6.25 per 6 perché ci sono 6 bloc in un'ora in media perché per 6 di nuovo è rubriaco è brutta storia a bere mentre si preparano i video niente bisogna togliere per 24 ci sono 24 ore in un giorno quindi in un giorno l'effetto è moltiplicato per 6.25 per 6 per 24 quindi in un giorno la variazione della supply di bitcoin mi fa variare il prezzo di 11 dollari pochissimo quindi abbiamo verificato che alla fine questo pochissimo oddio pochissimo se vado a moltiplicare per 365 quella in un anno in un anno di 4.000 dollari già meno poco me lo fa calare quindi ogni anno se bitcoin il prezzo cala di 4.000 dollari potete dare la colpa satoshi nakamoto ok comunque l'effetto non è così dirompente ok l'effetto più dirompente è questo 37 vuol dire che ogni giorno che passa il prezzo di bitcoin aumenta di 37 euro quindi se volete potete moltiplicare per 365 quindi per il semplice fatto che passi il tempo il prezzo medio di bitcoin aumenta di 13.500 euro dollari scusate questo è l'effetto dirompente e questo invece è l'effetto sul volume ogni più 1 su volume però siccome questo è volume su supply più 1 vuol dire più 100% ogni raddoppio del volume mi aumenta il prezzo di 3 dollari abbastanza irrilevante anche perché il raddoppio di volumi è grosso e non capiterà mai capiterà mai non capiterà quasi mai decuplicazione dei volumi se non proprio in bull market totale però di solito se i volumi aumentano il prezzo aumenta ma di poco vedete raddoppio dei volumi 3.31 dollari in più l'effetto più dirompente è questo senza dubbio è il tempo quindi siamo riusciti a inserire il tempo nella nostra relazione e se volete ecco qui volevo stupirvi con effetti speciali guardate che bello ecco qui adesso la relazione diventa questa questa costante che in realtà è una meno meno 13 milioni non meno 1 milione e 3 ma è irrilevante e poi negativo in base alla supply positivo in base alla data intendo il giorno che passa e positivo in base al volume e l'effetto più dirompente è la data quindi siamo riusciti a inserire la data vedete che inserendo la data adesso l'effetto che ha l'aumento della supply sul prezzo è diventato negativo mentre qui senza inserire la data inserendo la data questo non è più positivo ed è assume il segno che deve assumere quindi che quando aumenta la supply perché la data assorbe gran parte del cambiamento tutto quello dovuto all'incremento per il tempo che passa e devo dire che quindi per il momento possiamo concludere che il prezzo di bitcoin in base a questo modello dipende dalla supply non dipende dalla supply in maniera terribile ma dipende dalla supply ogni giorno cala di 11 dollari a causa dei nuovi bitcoin arrivati so già che gli esperti di statistica mi tirano fuori un problemone il problemone è un problema di multicollinearità io non ne voglio parlare e questo non finirà su un articolo scientifico quindi non ci sarà un esperto che mi verrà a fare le pulci sulla multicollinearità perché già sono rimasto con 17 persone che stanno guardando questo video e non voglio perdere 15 quindi non si parla di questo problema che c'è affligge questo modello c'è però un modello che è addirittura migliore sedetevi perché adesso perdo 5 persone e passerò a 12 un modello esponenziale e questo è il motivo per cui io mi sono calcolato qui il logaritmo quindi adesso non andrò a guardare se il prezzo dipende dagli altri tre fattori ma se il logaritmo del prezzo però tranquilli la cosa è un po' più semplice di quello che sembra il modello è questo quindi vedete è moltiplicativo mentre questo era additivo c'avevo dei più 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 questo è moltiplicativo ho degli esponenziali in mezzo ma a voi gli esponenziali come gli studenti quando gli studenti vedono i modelli esponenziali interpretano questi coefficienti come se se non ci fosse l'esponenziale davanti quindi questo è moltiplicativo sostanzialmente l'idea di questo modello è che la crescita di bitcoin non è lineare questo modello di lineare suppone che la crescita sia lineare in base ai suoi fattori qui è esponenziale in base ai fattori cioè quindi non dipende linearmente dalla data dipende in maniera esponenziale dalla data infatti il grafico è abbastanza evidente che sia esponenziale ok va su e giù perché però stiamo parlando di statistica in statistica si approssima alla grande ok quindi questo è il modello quindi dipende esponenzialmente dalla data esponenzialmente dalla supply esponenzialmente dal volume supply vediamo cosa ci dice il modello intanto R quadro 88% vuol dire che prevede lo spostamento del prezzo molto meglio e facciamo notare che qui non ho il logaritmo del prezzo ho proprio il prezzo ho spostato il logaritmo dall'altra i matematici mi capiranno 88% prevede veramente molto bene il prezzo ecco qui diamo coefficienti hanno sempre il pveglio di 0 ottimo deve essere sotto 5% perché abbia un senso però i coefficienti sono molto più difficili da interpretare cerchiamo di dargli un'interpretazione andrò un po' a spanna questa interpretazione perché i coefficienti di un modello esponenziale sono sempre un po' difficili intanto ve l'ho messo qui i miei effetti speciali eccolo qui tacate eccolo qui com'è il modello preciso questo è l'effetto moltiplicativo dopo un giorno vuol dire che dopo un giorno a causa dell'aumento della supply di 1 il prezzo è moltiplicato per 0.999758 quindi è calato leggermente a causa dell'aumento del giorno perché dopo un giorno il giorno aumenta di 1 il prezzo è aumentato è moltiplicato per 1.002 eccetera eccetera io ho voluto fare anche l'effetto dopo un anno perché forse è più chiaro da capire allora questo è l'effetto dopo un anno della variazione di supply ah scusate no questa è la variazione di supply in un giorno perché vedete ho moltiplicato 24 per 6 per 6 25 giusto quindi quindi un giorno di variazione di supply vedete abbastanza risicato dopo un anno quindi un anno di variazione di supply ogni 10 minuti 6 bitcoin e 25 il prezzo mi è calato dell'8% il fatto che sia moltiplicativo vuol dire che io qui posso esprimere le cose in percentuale quindi è più facile da capire perché qui che il prezzo sia calato di 11 dollari sì un conto è quando ne valeva 100 un conto è quando ne vale 10.000 ok 8% la variazione del tempo però dopo in un anno il prezzo e questo torna in un anno il prezzo è variato del 133% torna perché circa bitcoin ogni anno raddoppia in media il suo valore il suo prezzo quindi torna questo il modello ci ha dato un risultato sensato dovete anche controllare che dei risultati sensati perché vedremo dopo per alcune criptovalute alternative spa risultati che non stanno nel cielo interno e volume cioè questo vuol dire attenzione che questo vuol dire che in un anno in cui ogni giorno raddoppia il volume quindi un anno di crescita di volumi spaventosa il prezzo è modificato 64% quindi questo è totalmente irrilevante quindi questo è totalmente irrilevante questa la fa da padrona e questo ha un suo piccolo effetto quindi la tokenomics su bitcoin anche secondo il modello esponenziale ha un suo piccolo effetto però siccome la variazione al supply dava risultati più promettenti sono andato a guardare non è che se facciamo il modello invece di usare supply usiamo variazioni di supply viene meglio adesso spiego un po' più in fretta perché avete già capito perfettamente potreste passare un esame di statistica secondo me più che di statistica forse di metodi di forecast regressione fatta sulla variazione al supply e non sulla supply l'arequadro è veramente buono 87% aumento per i cecati e i p-value sono ottimi questi valori qui ahia questi due sono sensati questo lo vedo molto fuori vediamo allora ogni giorno che passa aumenta il valore di bitcoin dello 0,1% poco vediamo l'effetto su un anno e si fa più uno alla 365 meno uno devo mettere le parentesi 80% in più si si è sensato è sensato ogni raddoppio di volume mi aumenta di una quantità irrisoria questo era in accordo con l'altro e ogni raddoppio di supply mi diminuisce il prezzo del 100% questo è abbastanza sensato insomma dovrebbe un raddoppio di supply dovrebbe diminuirmi il prezzo del 50% cioè se a un certo punto decidiamo invece che 21 milioni ce ne sono 42 milioni il prezzo dovrebbe andare esattamente a metà 100% mi sembra eccessivo rientra nel problema di prima quindi è una cosa che lui non ha mai visto e quindi se la inventa un po' cerca di approssimare ma se va lontano dal range che ha visto spara balzanate e ho anche controllato cosa succede se invece del 100% gli mettiamo l'1% se gli mettiamo l'1% praticamente mi dice che il prezzo cala del 99% anche questa è abbastanza fuori anche perché lui non ha mai visto una variazione dell'1% se state a guardare i dati qui vedete che lui ha visto soltanto variazioni vedete del 0,03% neanche dell'1% possiamo rifarlo facciamo una questa cosa ardita lo rifaccio facendo vedendo cosa succede se il prezzo varia dello 0,01% devo sistemare questi dati così perdiamo gli altri 10 ascoltatori copy tagget qui vi faccio anche il trucchetto di excel pass special multiply ho modificato questo per 10.000 adesso rifaccio il modello di regressione data data analysis regression ok mi devo prendere è il modello esponenziale quindi devo prendere la colonna f dove c'è il logaritmo qui le colonne non sono dalla i alla k ma sono dalla j alla l ok ecco il modello largo 87% è uguale è uguale il quadro sono anche uguali gli altri due coefficienti l'unica cosa coefficiente cambiata è questo mi copio queste cose qui questo non è più non è più una variazione del 100% della supply ma è una variazione adesso del 1 per 10.000 della supply quindi ogni 1 per 10.000 di supply secondo lui cala dell'8% direi eccessivo considerando che ogni giorno c'è una variazione del 2-3 per 10.000 della supply il prezzo di bitcoin dovrebbe precipitare a razzo giù quindi mi fa una stima eccessiva questo modello passiamo adesso alle altcoin noto che sono arrivato a un tempo mostruoso di video qualcuno mi ha criticato che faccia video lunghissimi di mezz'ora quando vedrà questo le altcoin ecco qui tutti i dati sulle altcoin sono gli stessi di prima logaritmo del prezzo di chiusura variazione del prezzo di chiusura questa volta però anche il prezzo di chiusura espresso in bitcoin logaritmo del prezzo di chiusura espresso in bitcoin e variazione del prezzo di chiusura espresso in bitcoin volume supply volume supply variazione da supply e qui il nome della crypto e queste sono una barca sono tantissime crypto ho tolto le stablecoin e ho tolto le criptovalute wrappate cioè il wrappet bitcoin e mi aspetto che si comporti come bitcoin e non ha senso definire una supply perché la sua supply è praticamente inesistente è quella di bitcoin ho lasciato luna classic ho lasciato luna classic perché deve essere la criptovaluta in cui i modelli funzionano benissimo perché? perché luna classic è proprio il caso studio e a un certo punto ha fatto le sue oscillazioni random per i fatti suoi a un certo punto la sua supply è passata da qualche milione non ricordo qualche milione a qualche triliardo e il prezzo è crollato giù a picco tutti sapete il perché chi non lo sa si vada a guardare cosa è successo a luna e quindi proprio lì è proprio il caso classico supply aumenta a razzo il valore crolla giù però è un caso in cui la supply non è aumentata di 2-3 volte è aumentata di 2-3 milioni di volte ok però lo usiamo come caso studio purtroppo non posso fare Excel perché se volessi fare Excel dovrei fare 8 fogli per ogni criptovaluta e non mi bastano i fogli penso sia limitato a 256 fogli pertanto salvo il tutto ve lo metto a disposizione in descrizione bocciati di quelli che mi chiedono chiudo Excel perché mi sta usando tutta la memoria del mio povero computerino e indovinate a cosa passiamo a Pyke però questa volta non usiamo Anaconda lo so ho appena fatto il video su come installare Anaconda uno di voi mi ha segnalato che esiste un sistema per fare il tutto online quindi voi potrete far girare il file di Python che sto facendo girare io senza installare niente direttamente online usando questo sito che si chiama Colab lascerò il link in descrizione lascerò comunque il file di Anaconda tra l'altro questo qua è perfettamente compatibile con il file di Anaconda potete importarli eccolo qui allora prima cosa eseguiamo tutta la pappardella iniziale questi sono tutti i pacchetti aggiuntivi che Python deve importarsi peraltro la cosa simpatica è che tutti i calcoli non li sta facendo il vostro computer li sta facendo gentilmente Google quindi potete sfruttare anche Google dopodiché importiamo tutti i dati i dati si li va a prendere dal file Tokenomics quindi è esattamente sheet name alt esattamente quello che vi ho presentato prima è quello che io ho online quindi eseguiamo ci mette un po' a granellare i dati non preoccupatevi deve scaricarli online deve interpretarli da Excel eccetera eccetera ecco ci ha messo 42 secondi quindi non allarmatevi i dati come vedete sono quelli che abbiamo visto prima esattamente quelli arriva fino accidenti io non ce li ho lo schermo è troppo stretto comunque qua in fondo c'è il nome della cripto NAN quando c'era la cella vuota ecco i dati li spezzettiamo per cripto questo group buy cripto li spezza per cripto quindi crea tanti subset quindi sotto insieme di dati uno per ogni cripto e vi faccio per esempio vedere quello di Monero che è la mia criptovaluta preferita ovviamente potete anche immaginare per quali scopi Monero è lui il valore di Monero ha in bitcoin si Monero i prezzi in bitcoin il prezzi di Monero e si nel 2014 Monero valeva poco benissimo cosa fa tutta questa robaccia qui tutta questa robaccia qui vi fa le correlazioni eccole qui quelle che abbiamo visto prima io le ho già fatte ma adesso lo facciamo girare perché non mi accusiate di aver barato come si interpreta questa cosa ave prezzo di chiusura in bitcoin logaritmo del prezzo di chiusura in bitcoin questo è abbastanza irrilevante lo useremo dopo per i modelli variazione della chiusura in bitcoin il tutto riferito la correlazione con la supply di ave ovviamente chiaramente e con la variazione della supply di ave cosa cerchiamo cerchiamo le celle bianche sono quelle che ci dicono una forte correlazione negativa perché è quella che cerchiamo noi la correlazione positiva è ridicola cioè il fatto qui che avalanche abbia un prezzo di chiusura che dipende al 75% da quanti avalanche sono in circolazione è ridicolo vuol dire che più avalanche sono in circolazione più il prezzo di avalanche sale trattamente che non è ridicola l'analisi statistica che abbiamo fatto questo non è un modello questa è una misura è ridicolo che qualcuno possa sostenere che c'è una tokenomics dietro perché vuol dire che più avalanche ci sono più il prezzo sale ok stiamo cercando quindi quelli bianchi quindi ecco qui basic attention token che mi sembra sia BAT e confesso che ignoro che cosa faccia sicuramente qualcuno me lo scriverà in descrizione lui ha una correlazione di meno 0,63 il suo prezzo espresso in bitcoin ho espresso dei prezzi in bitcoin per liberarmi del fattore data perché a questo punto ho proprio tolto il fatto che il tempo passa e le computer volute tendono a salire perché essendo il prezzo espresso in bitcoin è espresso rispetto a una cosa che sale che diciamo che è rappresentazione misura rappresentativa del mondo delle criptovalute quindi questo è un bel tokenomics un bel indizio che c'è una tokenomics dietro anche per bitcoin cash in realtà vi spiffero una cosa per bitcoin cash e per altre criptovalute diciamo che sono derivate da una criptovaluta più famosa di loro questo c'è un altro motivo dietro qui c'è un altro effetto data bitcoin cash e chi ve lo dice era un convinto sostenitore di bitcoin cash lo ammetto e lo sono tuttora come tecnologia sta morendo economicamente per questo è il motivo perché anche gli è rimasto un effetto tempo quindi oltre a seguire bitcoin lo segue ma perde sempre più terreno ed ecco il perché quindi questo secondo me non è dovuto all'aumento della supply ma è dovuto in gran parte al fatto che perde terreno di continuo rispetto a bitcoin malissimo Cislitz che abbiamo malissimo Elrond ethereum classic qui il stesso discorso vale per rispetto a bitcoin per bitcoin cash cioè perde terreno rispetto a ethereum che invece si comporta come bitcoin dove è ethereum eccolo qui ethereum più ce n'è guardate ethereum più ce n'è e più a mezza prezzo bene file coin però anche file coin secondo me soffre un po' dell'effetto tempo flow litecoin anche lui soffre dell'effetto tempo era un'alternativa bitcoin molto usata tra l'altro su dark web ecco qui questo è il nostro metodo di giudizio luna classic negativo il suo logaritmico è negativo alla grande perché l'impennata della supply è stata esponenziale e anche la caduta del prezzo malissimo new protocol quando dico malissimo non intendo che sia una brutta criptovaluta intendo che si comporta in maniera strana rispetto alla tokenomics cioè più aumenta la supply più aumenta questa criptovaluta solana anche male male tezos bene cioè si comporta coerentemente rispetto alla tokenomics the sandbox male male quindi mi sembra siamo quasi di più i male che i bene vediamo da questa qui abbiamo la cos'è questo la variazione della supply quindi non più la supply ma la variazione supply che per bitcoin si comportava molto bene rispetto alla variazione della chiusura e o forse rispetto addirittura anche alla chiusura però qui invece come vedete sono tutti i valori spiaccicati sullo zero guardateli ecco forse questo è l'unico decente bravo ethereum ethereum può avere un senso ethereum è stata anche abbastanza famosa pubblicizzata quando ethereum ha cambiato la variazione della supply è stato un evento abbastanza pubblicizzato quindi se la variazione della supply quindi il numero di ethereum che vengono immessi in circolazione ogni tot aumenta il prezzo diminuisce giusto quindi se diminuiscono il prezzo aumenta e cos'è male fa il coin bravo bravo luna classic ecco luna è proprio l'esempio monero incredibile monero monero quindi quando monero fa variare la variazione di supply il prezzo varia nella direzione giusta nella direzione che ci spetta la tokenomics molto male trone ok ripeto il male molto male vuol dire per la tokenomics andiamo a vedere i grafici i stessi grafici che abbiamo visto di bitcoin sono gli stessi due oddio scusate qui c'è c'è un numero non autorizzato chi è che ha messo sto numero assurdo qui via meno male me ne sono accorto e qui genera uno scatafascio di grafici perché ne genera uno per ogni criptovaluta ora andremo proprio veloci 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 anche perché dai grafici vedrete subito che tra la supply questi sono quelli tra la supply e il prezzo relazione quasi inesistente almeno a occhio ecco sta iniziando a sfornarli ave così era interessante anche vedere la supply delle varie criptovalute supply di ave insomma non mi sembra non direi che c'è una relazione algorand algorand è simpatica perché la supply aumenta e il prezzo di algorand schizza su qui anche qui il supply aumenta il prezzo di algorand schizza su ma anche scende giù avalanche belle le scalette che si inventano qui anche guardate tutta questa zona la supply aumenta e il prezzo va su qui è vero che va giù però la supply aumenta di meno chi è questo basic no bnb non vedo molta relazione basic attention token ah ecco supply aumentino ma basic attention token scende era quello che andava bene in effetti andava bene ripeto sempre andava bene vuol dire tokenomics aveva un senso bitcoin cash questo è il prezzo di bitcoin cash attenzione rispetto a bitcoin se fate il prezzo di bitcoin cash rispetto al dollaro rivedete più o meno il grafico di bitcoin un po' più schiacciato però vedete lui cala di suo per il tempo che passa perché più passa il tempo qui c'erano ancora le persone come me entusiaste di bitcoin cash poi e cardano fa un aumento alla supply mostruoso e al prezzo non gliene cale niente chain link vediamo qui il prezzo va per i fatti suoi nonostante la supply sia piatta qui la supply schizza il prezzo cala giusto però la supply aumenta chilliz qui fa un aumento mostruoso del prezzo nonostante la supply aumenti leggermente ecco adesso potrei andare avanti all'infinito vediamo soltanto quelle famose dogecoin guardate dogecoin non gliene frega assolutamente niente della supply il fatto che la supply faccia sta curva qui aumenta con l'aumento mostruoso qui schizza su va giù chiaramente il prezzo dipende dai tweet se fosse la variabile nel modello di regressione tweet di Elon Musk la prenderebbe con un coefficiente preciso e andiamo su cosa c'è ethereum ethereum difficile da interpretare questa e poi c'è luna classic luna classic luna classic ecco luna classic luna classic è quello che la prende bene prende bene nel senso che prende bene la tokenomics perché vedete qui la supply schizza su e il prezzo schizza giù perché perché qui l'effetto la supply non è schizzata su di 100% è schizzata su di milioni per cento e quindi il prezzo è andato giù schiacciato a zero quindi per questo luna classic appunto il nostro tokenomics perfetta e niente poi salto le altre e passiamo agli altri grafici perché già vi starete addormentando voi 4 che mi state seguendo ecco qui gli altri grafici non li faccio girare li ho già fatti girare a casa questo è lo stesso qui sono ancora più difficile l'interpretazione però gli amanti di questi grafici potrebbero guardarseli bnb facciamo ecco il fatto che sia piena questa vuol dire che ogni tanto sta qua sopra e ogni tanto sta qua sotto non vuol dire che sta qua sopra mi raccomando quindi sta qua sopra sta qua sotto cioè non vedo una relazione tra il prezzo di bnb espresso in bitcoin sempre per togliere l'effetto tempo e la variazione della supply qui qui la variazione della supply diminuisce il prezzo di bnb sale forse c'è qui però la variazione della supply sale il prezzo di bnb scende però poi risale insomma ah guarda qui chi è questo che ha bitcoin cash che ha una variazione di supply precisa qui deve essere stato qualche errore nei dati o qualche errore in bitcoin cash chainlink andiamo al nostro amato luna luna mi è rimasta nel cuore ma soprattutto nel portafoglio ecco qui luna la variazione della supply schizza su e schizza su vedete da 10 alla 0 che vuol dire 10 volte ogni giorno 10 volte luna a 10 alla 6 qui è in scala logaritmica a 10 alla 6 vuol dire un milione di luna in più un milione di volte luna sì qui l'ho dovuto mettere in scala logaritmica perché si capisse qualcosa la variazione della supply in scala logaritmica il prezzo è sempre in scala lineare scala del prezzo a sinistra ok saltiamo tutto ok e l'ultima cosa sono i modelli di regressione stessi due modelli che abbiamo fatto prima e li facciamo fare eccoli qui non li analizziamo tranquilli voi qua due che siete rimasti fin qui tranquilli non li analizziamo semplicemente il lascio se qualcuno volesse vederli sono esattamente i due che ho fatto per bitcoin i primi due quindi usato il prezzo e il logaritmo del prezzo per avere il modello esponenziale quindi questo è il modello lineare questo è il modello esponenziale in questo caso di ave ci sono i piveglio non dimenticate che i piveglio devono essere sotto 0.05 ad esempio prendiamo qualche piveglio che non ci sta neanche per il cavolo eccolo qui avalanche chiaramente non dipende dalla data è abbastanza plausibile che non dipendano più dalla data perché essendo il prezzo espresso in bitcoin abbiamo tolto quell'effetto se volete quindi se siete interessati a una in particolare ad esempio o se siete così pazzi da guardarvele tutte molto banalmente qui potete cambiare le x e le y ad esempio se invece che il prezzo espresso in bitcoin voglio il prezzo in dollari basta scrivere close in cima al file vedete esattamente le intestazioni e vi rifate i modelli col prezzo e a quel punto vedete che probabilmente avalanche dipende dalla data adesso rilascio il coso originale se non volete che invece della supply var supply var supply se volete aggiungere una variabile basta che mettete virgola qui virgola virgolette il nome della variabile e quindi potete far girare i modelli lui fa automaticamente quello con close btc e quello con logaritmo di close btc di quella criptovaluta lo fa solo per le criptovalute per cui abbiamo almeno 365 dati come vedete qui se no non ne vale la pena proprio perché ovviamente non ha senso il video fortunatamente finisce qui a te che mi stai ancora seguendo non regalo un bitcoin o di quelli che mi stanno seguendo anche se sono convinto che potrei farlo c'è un video dei miei in cui a fine video dico ok regalo degli ethereum a chi mi ha seguito fin qui uno solo ha preso gli ethereum e glielo ho dati veramente bene ciao ciao e volevate il video sulle criptovalute eccovelo qui una bella mazzata alla prossima e Grazie a tutti